Siamo un gruppo bancario cooperativo, nato per continuare a fare quel che abbiamo sempre fatto. Il gruppo, erede di una storia lunga oltre un secolo, un'avventura mossa da un'idea, che la partecipazione, la solidarietà, il benessere comune, possano essere parte di una banca. Un gruppo vicino alle persone, ai territori, alle comunità. Un nuovo modo di fare banca, gli stessi principi di sempre. Gruppo Cassa Centrale, Credito Cooperativo Italiano. La nuova era del credito cooperativo che vedrà Cassa Centrale e Banca, gruppo bancario, è iniziata. È l'Assemblea dei Soci che si è giunita lunedì scorso, 14 gennaio a Milano, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Presente all'importante appuntamento anche la Banca Montebruno con il direttore generale Michele Albanese e il vicepresidente Antonio Cigniello. Un'assemblea che, oltre alla nomina dei componenti del Consiglio, è stata anche utile a ribadire la linea operativa su cui si muoverà il gruppo Cassa Centrale e Banca. Grazie. 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 Grazie.